Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un'ordinanza di sospensione dall'esercizio del pubblico servizio emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di un impiegato dell'Adisurc in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno. L'uomo è ritenuto responsabile di furto aggravato commesso a danno della medesima azienda. Le indagini hanno fatto emergere attraverso telecamere nascoste che l'indagato asportava sistematicamente denaro contante dall'interno delle monetiche ubicate nella mensa universitaria di Fisciano. In particolare dalla visione delle immagini si evince con chiarezza che l'uomo negli orari mattutini e lontano da occhi indiscreti dopo aver aperto le monetiche utilizzando le chiavi custodite negli uffici dell'azienda asporta il denaro perfezionando l'azione criminosa digitando un codice che azzera il sistema informatico di contabilizzazione. L'attività investigativa ha consentito di quantificare dall'inizio del 2018 l'ammanco di circa 22.000 euro dall'interno degli apparecchi utilizzati dagli studenti per ricaricare i beige che consentono di usufruire dei servizi mensa. L'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico servizio per 12 mesi nei confronti dell'unico indagato coinvolto.